È un drone subacqueo che serve per il monitoraggio dei mari, alla cui realizzazione ha contribuito anche la regione toscana. Andiamo a scoprirlo insieme in questo servizio. Quello che vedete in queste immagini è un drone subacqueo, un sommergibile lungo poco più di 3,5 metri, pesante 800 kg è in grado di muoversi nell'acqua in totale autonomia oppure teleguidato da un operatore via wifi o attraverso un cavo in fibra ottica. Si tratta del fiore all'occhiello dell'ultima edizione di Toscana Tecnologica, la fiera dell'innovazione organizzata a Firenze, tanto da meritarsi un posto d'onore all'ingresso dei padiglioni. Un prototipo realizzato a Livorno dalla VAS, azienda della Galassia Finmeccanica, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e finanziato in parte dalla regione toscana attraverso i fondi europei del settennato 2007-2013. La Scuola Superiore Sant'Anna ha realizzato una suite sensoriale per l'analisi delle acque, quindi riusciamo a campionare le acque e analizzarle in situ, rilevando la presenza di metalli, soprattutto di metalli pesanti, disciolti in acqua, quindi in particolare il mercurio, che è un elemento molto pericoloso per la catena alimentare. Il Wufides, così si chiama il drone sottomarino, è più che altro però una piattaforma in grado di ospitare i sensori più diversi e di conseguenza svolgere i compiti più disparati. Adesso sono montati appunto sensori per l'alimentamento ambientale, ma potrebbero essere integrati o sostituiti con altri tipi di sensori, in particolare acustici per scansione del fondale, quindi ricostruzione e imaging 3D del fondale. Piuttosto che per monitorare le condizioni di strutture sottomarine, come le piattaforme petrolifere. Per progettare e costruire Wufides ci sono voluti tre anni e il debutto sui mercati è ormai imminente. Abbiamo raggiunto un buonissimo livello di sviluppo, abbiamo testato a mare funzionante ed ora stiamo proponendoci sul mercato per diverse applicazioni appunto verso aziende dell'oil del settore oil e gas, verso centri di ricerca o verso anche settore come marina militare che potrebbe utilizzare oggetti di questo tipo per sminamento o protezione civile.